Ciao Stefania, o meglio signora Passarini, scherzando, però diciamo a tutti che sei una sposa anche di Fresco. Per te abbiamo un nuovo ruolo, sarai uno dei due liberi, che sensazioni, quali pensieri ti sono venuti quando ti è stato affidato il ruolo, anche ieri sera in partita, come l'hai vissuta questa nuova esperienza? Allora, diciamo che il cambio ruolo per me è stato un po', diciamo, una scommessa da parte di Alberto e anche di Davide e della società, perché comunque sapevo i miei limiti fisici e ho messo a disposizione il mio bagaglio tecnico e quindi mi sono messa in gioco in una categoria superiore, cercando appunto di dare il mio apporto dietro, in seconda linea. Ora non posso sapere come andrà il futuro, io ce la sto mettendo la vera tutta e sto cercando di impegnarmi al massimo nel cambio ruolo, so che non sarà facile, anche perché appunto essendo nata in congedo matrimoniale due settimane ho perso due settimane di preparazione, quindi devo farmi il mazzo ancora di più, però insomma sono fiduciosa e spero che anche le mie compagnie creano in me e sicuramente lo faranno e niente, spero che vada tutto bene. Una stagione che quindi si preannuncia molto dura, secondo te quest'anno conterà anche saper soffrire e dare tutti se stessi? Assolutamente sì, ovviamente il lavoro che stiamo facendo in palestra in questi giorni è molto intenso, partendo soprattutto dalla parte preparazione fisica, siamo un gruppo che comunque ha voglia di lavorare, molto giovane, ma che è molto determinato e con Alberto ovviamente gli stimoli ci sono sempre per fare sempre meglio e quindi insomma sono contenta del gruppo che c'è e sono pronta insomma anche alle prossime partite a vedere come andrà, sono fiduciosa del risultato insomma, dai! Grazie Stefania, è stato un piacere!